allora stiamo facendo le imposte vedete come si fanno come punto di riferimento il livello ci siamo messi 100 centimetri un metro eccola ecco lì 100 centimetri vedete quella è l'imposta adesso se ne deve fare un'altra nell'angolo laggiù un'altra nell'angolo laggiù e si fa la guida che nel prossimo video facciamo vedere come ok facciamo quest'altro imposta sempre a 100 centimetri con il nostro punto di livello che abbiamo laggiù vedete si vede bene perché è un po' buia attenzione un attimo non ti muovere non ti muovere ok facciamo entrare un po' di luce ecco qua si vede da un altro punto di livello vedete per fare questo tipo di interventi si utilizza una cazzuola quadrata proprio apposta per i massetti però va bene anche questa qua che negli angoli si pulisce meglio noi riusciamo a pulire meglio anche con una cazzuola normale con la tonda vedete il nostro operatore si sta mettendo a 100 centimetri esigualmente un metro per posizionare l'altra in posta per fare questa guida vedete collegarla con questo che è lo stesso livello del pavimento grazie grazie grazie